Liberarte è arrivata alla sua settimo edizione della mostra di fine anno. La mostra racchiuderà i lavori più belli realizzati durante il corso oltre a quelli che rappresenteranno il tema della mostra, e cioè le illustrazioni dei racconti. Racconti speciali perché parlano di personaggi della nostra città, raccontati egregiamente sotto forma di favole dalla scrittrice Silvia Quero. Le favole sono appunto racchiuse nel suo ultimo libro, C'era una volta, Taranto. Ma non finisce qui, perché le illustrazioni saranno presentate dai singoli bambini che le hanno realizzate attraverso il teatrino del Kamishabai e ci sarà la voce narrante della scrittrice che li accompagnerà. La mostra si svolgerà presso la sede dell'Associazione ABF o in Via Lago di Montepulciano, Taranto. L'evento sarà presenziato dell'assessora alla pubblica istruzione Maria Lupino.